Siamo Federico Taddià e Pier Domenico Baccalario, siamo gli ideatori e gli autori delle 15. Le 15 non è encioclopedia, c'è qualcosa di vecchissimo, di cartaceo che abbiamo rilanciato perché crediamo molto nell'idea della fonte autorevole e la carta ti dà l'idea di fonte autorevole. E il libro che ha vinto oggi, questo termine di divulgazione, e ne siamo felicissimi, è il primo libro dei 15. E parla dell'economia, a cosa servono i soldi, servono tantissime cose, se ne può fare a meno? Forse, ma bisogna essere molto in gamba e aver letto il libro. E il taglio è nostro, tanto rigore scientifico e tanta ironia. Con un esperto d'eccezione.